Io sono Ruben, ho 26 anni e lavoro in una ditta bergamasca come impiegato. Sono Francesca, ho 22 anni e mi sono appena laureata in economia e marketing. Io e Ruben siamo fidanzati da 2 anni e 4 mesi. Ma la chi c'è? Francis, la portiamo. Chi è che la tiene? La tiene te? Tu almeno ti ricordi di me quando sei la. Ci siamo conosciuti in discoteca e inizialmente sono stata io a provarci. È arrivata lì all'improvviso, così bella, ho detto non verrà mica qua da me, invece era arrivata lì da me e da lì ho capito che non potevo lasciarmi perdere una ragazza del genere.